Ciao ragazzi e bentornati, io sono Antonio e questa settimana un nuovo video dedicato alla saga di Animali Fantastici, in questo caso ai crimini di Grindelwald. Con un ritardo imbarazzante, finalmente riesco a portare qui sul canale la recensione e l'unboxing, visto che lo sfoglieremo assieme, del volume dedicato agli archivi della magia. Si tratta di un volume di HarperCollins che è davvero di altissimo livello, non costa neanche tantissimo per la qualità del prodotto, ma di questo ne parleremo dopo. E all'interno di questo volume con copertina magnetica che richiama tantissimo la valigia di Jutz Kamander, l'ho già recensito, lo trovate sul canale, ragazzi questo qui è strapieno di allegati e di cose davvero ultra fighissime. Io ragazzi, prima di cominciare, vi ricordo che su Pampling, utilizzando il codice sconto 7Potter, potrete avere il 20% su tutti i vostri acquisti, il codice è riutilizzabile tutte le volte che vorrete. Io ad esempio ho acquistato questa maglietta che utilizzo sempre per i video potteriani lì su Pampling e ne trovate anche di tantissimi altri fandom. Bene, io direi di non dilungarmi troppo e di cominciare subito a sfogliare assieme questo bel volumone. Ecco il nostro volume dedicato ai crimini di Grindelwald intitolato Gli archivi della magia. È un volume molto molto bello con copertina magnetica che una volta staccata rivela al suo interno questa letterina che adesso andiamo ad aprire e andiamo a leggerne il contenuto. Eccola qui. Questa è una lettera che parla dei Lestrange, della famiglia Lestrange. Io sarò sincero, non ho chiarissimi tutti i riferimenti al film perché l'ho visto solo una volta, l'ho visto solo al cinema e devo ancora rivederlo con calma in casa, nonostante siano passati moltissimi mesi. Quindi questa è una lettera della famiglia Black, ma non ricordo assolutamente dove l'abbiamo vista nel film. Quindi ragazzi, mi raccomando, ditemelo voi nei commenti. Ma andiamo avanti e apriamo il nostro libro che comunque è di una finitura pregiatissima. È davvero molto molto bello ed è stato curato ovviamente da Mina Lima. Guardate quanto è bello all'interno con queste pagine dedicate al Circus Arcanus e poi abbiamo tutti i vari capitoli. La prefazione, il mondo di Grindelwald, poi si passerà a Londra, il mondo di Nutz Kamander, Parigi, ritorno ad Hogwarts, finale post-fazione. Ecco che qui abbiamo tantissima roba da leggere e si comincia subito con l'alchimia della creazione filmica. Questi libri sono davvero pieni, pieni, pieni di notizie dedicate a come sono stati girati i film, come sono stati realizzati diversi oggetti e tantissime curiosità. Quindi assolutamente dedicati ai fan più sfegatati. Ecco il primo allegato molto molto bello, mi piace un sacco. Si tratta del segnalibro con il logo di Gellert Grindelwald. E al centro ecco che abbiamo lo stemma, il logo dei Doni della Morte. Davvero molto molto bello, è stato sfruttato pochissimo nel film, secondo me doveva essere molto più presente questo stemma. Qui troviamo la carrozza che ha aiutato Grindelwald a fuggire dal Makusa, dalla sua prigione. E quella scena, sono sincero, mi è piaciuta davvero tantissimo. Ecco qui un altro allegato ed è dedicato a Credence. E si tratta del certificato di adozione. Questo molto molto importante nel film perché serve tantissimo per i fini della trama. Ma non voglio fare spoiler, magari qualcuno non ha ancora visto il film. Perché visto che l'ho visto solo una volta, non mi stupirebbe che qualcuno non l'abbia proprio ancora visto. Poi ecco che andando avanti troviamo qui un altro allegato. Si tratta di una carta d'identità del Ministero della Magia francese in questo caso. Ed eccolo qui. Qui abbiamo una foto di Newt. Molto bella. Io non capisco perché lui abbia un documento francese. Ragazzi, sono davvero molto ignorante in merito a questo film. Non ricordo perché lui ne abbia uno. Fatemelo sapere sotto nei commenti. Però è davvero molto molto bello, molto ben realizzato. Mi piace un sacco. È davvero di altissima qualità. Se voi andaste nel negozio di MinaLima a Londra ad acquistare una replica del genere, un documento replicato del genere, ragazzi, costerebbe più dell'intero libro. Quindi io vi consiglio tantissimo di acquistare questi libri curati da loro perché valgono assolutamente il prezzo speso. Abbiamo diverse pagine dedicate ai personaggi come Lethalestrange, come il fratello di Newt, Teseus Scamander, e poi bellissime immagini a due pagine, costruire una città, anche qui dedicato questa volta alla costruzione di Parigi, visto che nel volume precedente la valigia di Newt era dedicato alla costruzione di New York, e poi abbiamo naturalmente tutti i materiali di scena, come ad esempio la famosissima valigia di Newt. Sono dei libri molto molto interessanti. Ci vuole davvero tanto tempo per leggerli, però ne vale la pena. Guardate quanto è bella questa replica della cartolina, questa qui che vediamo nel film, con dietro anche tutto il testo stampato. Sono delle repliche davvero bellissime, ragazzi, di una qualità pazzesca. Da questa parte invece troviamo addirittura un giornale. Troviamo il giornale con la presentazione all'interno di Animali Fantastici e dove trovarli al Ghirigoro. Questa è la foto che vediamo anche nel film, all'interno del Ghirigoro, con Leta, il fratello di Newt, e anche la segretaria e aiutante di Newt qui alle spalle. Questo sarebbe dovuto essere presente anche nel film, questa scena, questa presentazione, ma per qualche motivo non è stato fatto. Anche questa copertina, ragazzi, che ve lo dico a fare, è davvero bellissima. E poi continuiamo a sfogliare il nostro libro, che è sempre una sorpresa. Questo è dedicato, ad esempio, al laboratorio di Newt, al suo ufficio, al suo quartier generale, che a me è piaciuto davvero tantissimo. Abbiamo tutti i vari animali, Mooncalf, gli snasi, i piquet, naturalmente si approfondiscono anche altri personaggi come Jacob e Queenie, che a me non è piaciuta per niente in questo film, e poi si approfondisce nuovamente tutto il reparto degli effetti speciali, come ad esempio la cavalcata sul Kelpie di Newt, che invece in quel caso mi è piaciuta, ma avrei preferito che fosse leggermente più lunga, perché mi è sembrata un po' mozzata. E poi si passa a Parigi, con il Circus Arcanus. Anche in questo caso è stato dedicato tantissimo tempo da Mina Lima per costruire tutta questa scenografia, tutta questa ambientazione, e poi alla fine è stata sfruttata davvero pochissimo. Qui troviamo un altro legato, che sono due etichette che si possono staccare di Butterbeer, di Burro Birra, però la versione francese. Molto molto carina come idea. E poi qui abbiamo un allegato un po' più importante. Ragazzi, questi allegati qui costerebbero davvero un occhio della testa sul sito e nel negozio di Mina Lima. Io vi invito a guardare anche solamente il sito, dove la replica di un poster del Circus Arcanus arriva a costare anche 70-80 euro, mentre qui ve ne regalano addirittura due. E adesso ve li mostro. Ecco qui il primo poster dedicato al Circus Arcanus. È la replica di uno dei volantini appesi per la città. È in scala 1 a 1 ed è davvero molto molto bello. Parla delle creature presenti nel circo. È questo qui, che secondo me è ancora più bello, sempre in dimensioni naturali, che parla del Maledictus, quindi parla proprio di Nagini, ma anche di altri animali, come ad esempio i K, K che abbiamo solamente intravisto in mezza scena. Queste repliche hanno un valore altissimo, perché sono ufficiali di Mina Lima. E rimanendo in tema di circo, ecco anche Nagini, che è il nostro Maledictus preferito, che ragazzi, anche lei in questo film ha avuto pochissimo spazio, tante scene tagliate, speriamo che col terzo la Rowling faccia un'opera decisamente migliore e che approfondisca un po' tutti questi personaggi. Abbiamo lo Zoo, che invece ha avuto gran parte di spazio nella parte centrale del film, e poi ad esempio Lonnie, che mi sarebbe tanto piaciuto vedere, e che nonostante ci sia qui un concept molto molto bello, non è stato introdotto. E poi vediamo, andiamo ancora avanti, troviamo altri personaggi come Tina, come Kama, e ad esempio il nascondiglio, anche questo si è visto, ma non si è capito granché nel film, e poi la guest star Nicolas Flamel. Tutti siamo andati fuori di testa quando l'abbiamo visto nel trailer, e qui troviamo in allegato il suo bigliettino da visita, quello che è Silente da Agnewt all'inizio del film. Anche questa replica molto molto interessante, molto ben fatta. La casa di Nicolas Flamel, moltissimi dettagli, tutti da scoprire. Si ritorna di nuovo a parlare di Parigi, e di come sia stata fatta tutta l'ambientazione. E poi qui abbiamo, ad esempio, la replica di un foglio di giornale francese, francese, e qui è presente anche il green screen, e volendo si può applicare qualcosa, semplicemente anche utilizzando Premiere. È molto molto semplice usare questo tipo di accorgimento, ed è il modo, è il trucco che viene utilizzato nei film di Harry Potter e di Animali Fantastici, per creare i giornali con le foto in movimento, tipiche del mondo magico. Abbiamo diverse prime pagine, diverse cose molto molto interessanti. Qui ha anche la gazzetta del profeta, il Daily Prophet, la versione, credo, francese, perché mi sembra diversa la scritta, o forse è semplicemente una versione più antica rispetto a quella che abbiamo visto in ogni film di Harry Potter. Tantissime pubblicità. Come potete vedere, tutto viene ricreato da Mina Lima. Anche gli articoli, gli annunci, nulla è finto, nulla è lasciato al caso. Tutto viene assolutamente ricreato nei minimi dettagli. E poi parliamo, naturalmente, del Ministero della Magia Francese, che a me è piaciuto tantissimo, è stato realizzato davvero molto molto bene. E qui la cassetta di sicurezza, che riprende, come potete vedere, la copertina di questo volume, eccola qui, che viene ripresa da questa cassetta qui, con lo stesso numero, che è quella della famiglia Lestrange. E naturalmente abbiamo anche una parte dedicata ad Hogwarts degli anni venti, con Silente, e poi magari anche la Megganit, che ancora non è stato confermato se essere coerente o meno con Hogwarts di quell'epoca. Anche perché in tanti dicono di no, ma la data di nascita effettiva non è mai stata rivelata dalla Rolling, ma semplicemente dedotta dai fan tramite alcuni calcoli, che potrebbero anche non essere esatti. E poi ecco le varie aule, qui troviamo ancora i ricordi ad Hogwarts di Leta, e andiamo ancora avanti, fino ad arrivare al mausoleo, quindi alla parte finale del film, troviamo la razza della famiglia Lestrange, e poi ecco che arriviamo alla fase finale del film, bellissima questa inquadratura, così su due pagine, e ecco che vediamo se troviamo ancora qualche allegato alla fine del volume. No, alla fine di questo volume, ragazzi, non è presente nessun allegato. Purtroppo, non lo ricordavo, mi sarebbe piaciuto trovare una piccola chicca alla fine del libro, ma va bene così, l'abbiamo trovata all'inizio. Richiudiamo la nostra copertina e cambiamo inquadratura. Ragazzi, cos'altro aggiungere? Il volume, secondo me, vale assolutamente il prezzo richiesto. Costa 39,90€, ma io vi lascio il link sotto in infobox ad Amazon per acquistarlo, naturalmente a prezzo scontato, va spesso anche in promozione, quindi vi consiglio di monitorarlo, ma in ogni caso il 15% è già di base. Ragazzi, io assolutamente ve lo straconsiglio, naturalmente da inserire nella vostra collezione, è un pezzo immancabile dedicato ai crimini di Grindelwald. Mi piacciono tantissimo gli allegati all'interno, vado letteralmente pazzo per il segnalibro con il logo di Grindelwald, è davvero molto molto bello, però è il mio, e naturalmente fatemi sapere sotto in infobox, anzi no, sotto nei commenti, qual è il vostro allegato preferito all'interno di questo volume e naturalmente anche cosa ne pensate se già lo avevate o se stavate aspettando da mille, mila anni la mia recensione. Mi scuso tantissimo per il ritardo abnorme. Ragazzi, detto questo, io naturalmente come al solito vi consiglio di attivare la campanella e naturalmente, qualora vi fosse piaciuto il video, di lasciare un mi piace, di commentarlo e di condividerlo con i vostri amici. Io vi ricordo di seguirmi su Instagram, Antonio.seria, ma detto questo, do un taglio alle ciance e vi do appuntamento a prestissimo con tante altre novità. Ciao!